Pronto? Parlo con Emily? Ciao, Petorina. Scusa, hai chiamato il 911? Sì. Ti serve aiuto? Sì. Ok, Emily, vivi al 5800 di Regge Street, appartamento 6? Non avere paura. Hai bevuto? No, no. Perché ci hai chiamato? Non vuole, posso parlare con te? Ok, ora riattacco. Sto facendo un giro in auto, tesorina, ok? Chi è? Sì, lo capisco. C'è qualcuno con te? Emily? Chi è con te, sa che ci hai chiamato? No. Chi pensa che hai chiamato? Sì, sì, tesorina. Tua figlia? Sì. Ora ti farò domande a cui rispondere sì o no.